in collegamento cari amici con l'ipotromo delle capanelle, vanno via i protagonisti della seconda corsa, Stipo Chase e c'è l'attacco immediato di Driver che prova, sorvolando di slancio la prima siepe, a prendere il comando sottraendolo a schizioso Mix in seconda posizione, Repile in terza, poi a seguire Schumacher e Vegas, occhio almeno c'è un tentativo di fuga, Driver si improvvisa nel suo tentativo di fuga, ha guadagnato già buone 10-15 lunghezze, sfizioso non sa se organizzare l'inseguimento oppure lasciar correre, comunque sta aumentando il suo ritmo, ne guadagna lo spettacolo, c'è ritmo, c'è andatura, si va sugli ostacoli con vigore, andiamo sulla diagonale, via la Pence, adesso andiamo ad affrontare la Riviera, Driver, sfizioso, poi gli altri tre che sono Rip Pile in terza posizione davanti a Schumacher, e Vegas, e andiamo ad affrontare adesso la seconda curva, con Driver che mantiene ancora un discreto margine di vantaggio, è sfizioso, non sa bene se accollarsi tutto l'onere della ricorsa, gli potrebbe dare una mano Rip Pile, ma fatica anche lui a stare in terza posizione, gli altri due viaggiano di conserva, anche perché Schumacher prova gli ostacoli alti, e ci mancherebbe anche che si lanciasse a sprombattuto, adesso però il leader, Driver, ha saltato male il primo ostacolo della diagonale discendente, inizia la sua parabola altrettanto discendente, tra poco lo riassorbono, Driver in vantaggio, preso male quel salto, ha speso, sta un po' ripiatando, quindi probabilmente potrà avere un'ultima fiammata, però insomma Rip Pile è sfizioso, sono lì ad un tiro di schioppo, quattro falcate e se lo bevano, ancora in vantaggio Driver, Rip Pile converge su di lui e forse in questo stacolo lo sorvola, così è, Driver ancora secondo, esce adesso anche Schumidenzer allo scoperto, mentre chissà, se non abbia speso sfizioso per stare lì come un elastico alle spalle del leader, e ha speso, ha speso e si chiama forse fuori, Rip, Schumi, che si muove bene, Vegas, sfizioso che ha dato, e adesso siamo lì dal gomito della curva, Rip e Schumi che si muove benissimo, e se insomma adesso trova due siepi, quindi per andare a casa, meglio di così non gli poteva andare, va all'attacco di Rip Pile, Schumi, gli manca un ostacolo, l'ultimo, lo affrontano insieme, tutti e due, Schumidenzer, Rip Pile all'interno, è un magnifico testa a testa nel tratto finale in piano, Schumi Danzer, impone i diritti di una classe superiore davanti a Rip Pile, Vegas, esausto, sfizioso mix che è andato a...